25 e 29 ottobre, Salone del Gusto e l'Ambruzzo si presenta non solamente esponendo ma facendosi conoscere nella sua tradizione e nella sua cultura. Sì, non vorremmo solo raccontare le storie di questo territorio, le tante storie dei protagonisti di questo territorio, dagli agricoltori ai pastori agli allevatori ai pescatori, vorremmo anche offrire delle sensazioni gustative, chiaramente facendo conoscere nei cinque giorni della manifestazione, attraverso un programma molto articolato di laboratori del gusto e di cene e di momenti tematici, quello che questa regione può offrire, grazie anche all'opera straordinaria del contributo di otto ristoratori, addirittura con due scuole, che verranno a interpretare il meglio della produzione abruzzese. Il palato che gusta? Il palato di tutti però, che deve saper gustare, deve saper riconoscere quelli che sono i migliori cibi e la migliore qualità organoelettica che possiamo offrire. E' un'assoluta novità, un'esperienza diversa quella che propone l'Abruzzo in questa edizione? E' migliorativa rispetto alle edizioni precedenti, diciamo che l'esperienza chiaramente ci ha consentito in questi anni di migliorare sempre l'offerta, di completarla, di avere sempre qualche idea nuova e quindi credo che anche quest'anno ai 200.000 visitatori che ormai statisticamente visitano il Salone del Gusto potremmo offrire veramente un bello spaccato della nostra regione. Senta, ma l'arrosticino secondo lei si può mangiare solo in Abruzzo o si riesce a apprezzare anche fuori regione? Allora, il discorso è lunghissimo, cerco di fare una sintesi. Quello a cui sta guardando la regione con questo protocollo disciplinare di cui credo Mauro Febbo possa parlare meglio di me tende in questa fase a offrire il meglio all'interno della regione. Poi voglio dire, quello che verrà fuori nel corso dei prossimi anni, io mi auguro che possa varcare i confini di questa regione perché è uno dei più straordinari cibi di strada italiani. Però l'arrosticino migliore si può apprezzare solamente nella terra dove nasce. Beh, questo è così per Alessia ed è giusto che sia così. È anche un invito a chi viene da fuori regione a venire a scoprire questo territorio. Per cui è un motivo in più per scoprire l'Abruzzo.